Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città. Le previsioni del tempo per la provincia di Messina. Oggi, mercoledì 5 febbraio, ancora cielo nuvoloso per l'intero corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi. I venti soffieranno da moderati a forti, da ovest e nord-ovest, su entrambi i versanti. I mari, mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.